Vigilia di Inter Napoli Sicuramente è stata ed è un'esperienza nuova per tutti quanti, comunque io penso che come tutte le esperienze nuove bisogna prendere il lato positivo e quindi imparare da questo tipo di situazioni. Sicuramente giocare ogni tre giorni ha lasciato in ognuno di noi comunque un'esperienza che dovremmo essere bravi a trarre delle situazioni positive anche per il futuro. Senti, a proposito di situazioni positive di esperienza, di esempio, ne avranno sicuramente tratto alcuni dei ragazzi di questo gruppo da Penso Ranocchia, Borca Valero. Tu hai speso parole per loro ultimamente, cioè quei giocatori che non hanno potuto giocare molto all'inizio ma quando poi sono stati chiamati in causa lavorando sempre bene, tu l'hai ribadito più volte, sempre seri, puntuali, attenti nel lavoro quotidiano e poi è nata dimostrazione di esserci quando sono stati chiamati in causa. Anche per Sanchez potremmo fare un discorso diverso anche se lui poi però è stato assente per infortunio. Sì, ma come ho sempre detto tutta la stagione stiamo parlando di un gruppo di ragazzi molto seri, molto concentrati, gente che comunque ha sempre lavorato. Anche Andrea Ranocchia penso che comunque ogni volta che è stato chiamato in causa quest'anno abbia dato delle risposte positive. Merito loro del fatto che si sono sempre messi a disposizione anche se magari spesso e volentieri le scelte non ricadevano su di loro. Hanno continuato ad allenarsi in maniera molto seria, da professionisti seri quali quali sono, ma su questo non avevo dubbi perché stiamo parlando sicuramente di un gruppo che da un punto di vista umano è un ottimo gruppo. Parliamo del Napoli di Gattuso, adesso è la quarta volta che lo si incontrerà nel corso di questa stagione. Non penso che cambierà molto, l'avete studiato, ma penso che conosciate bene le qualità dei singoli e del collettivo. A Napoli in Coppa Italia solo la sfortuna ha impedito all'Inter ad andare avanti, ma in campionato possiamo dire che è stata forse una delle Inter più belle di questa stagione? Non so se ritorni proprio a focalizzare i 90 minuti di quella partita. Sì, io ce l'ho presente tutte le partite che abbiamo giocato, quindi sicuramente fu una buona partita da parte nostra, però per certi versi penso che delle tre partite giocate adesso contro il Napoli, forse la più bella da parte nostra giocata, sia stata quella del ritorno di Coppa Italia, dove penso che avremmo meritato sicuramente di più. Però stiamo parlando di una compagine molto forte che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio a chi poi ha vinto lo Scudetto, quindi una squadra con una buonissima rosa, anche quest'anno anche loro avevano potenziato la rosa per cercare di dare fastidio in campionato, sono stati bravi poi a vincere la Coppa Italia. Mancherà Gagliardini per squalifica, recuperi Barella che l'ha scontata, si recupera anche Senzia, a che punto sta Stefano? Magari è vero che mancano due gare di campionato, ma per l'Inter poi ce ne sono altre potenziali, almeno sicuramente una di Europa League, quindi sarebbe importante ritrovarlo per questa coda di campionato, ma anche per quello che potrebbero essere gli impegni di agosto. A centrocampo quest'anno è comunque sempre stato un recuperi uno, ne perdi un altro, oppure rientra la squalifica uno e perdi un altro per squalifica, quindi rientra Nicolò per la partita di domani contro il Napoli e c'è Gagliardini squalificato. Per quello che riguarda Sensi sta progredendo, però diventa difficile oggi quantificare delle stime, perché stiamo parlando comunque che fino a domenica non si allenerà con noi, quindi vediamo, vediamo l'importante che il ragazzo stia bene e possa buttarsi alle spalle questa annata, che sicuramente è stata un'annata molto sfortunata per lui e molto penalizzante per noi. So che non ti piace parlare dei singoli, ti ho fatto parlare solo dei singoli, quindi a questo momento concludo con Lukaku. Due cose mi hanno colpito, una tua dichiarazione di fine gara dopo il match contro il Genoa e il suo gol dello 0-3, perché al 92esimo con il caldo, con tutto quello che c'è, fare una giocata di quel genere, con la freddezza, la lucidità, la freschezza che potreste avere dopo dieci minuti di partita mi ha impressionato. Però tu poi a fine gara hai detto, ma ha grandi margini di miglioramento, non finisce mai di stupire Romelu. Romelu è sicuramente un calciatore che ha margini di miglioramento, perché comunque in alcune situazioni di gioco lui può e deve migliorare. Stiamo parlando di un, come ho detto a fine partita, di un calciatore atipico, perché nonostante la sua stazza, la sua forza, la sua altezza di 1,90 e quindi il fatto di essere un punto di riferimento davanti è anche un giocatore veloce, che avendo campo da percorrere ha la capacità di essere molto veloce e anche al 93esimo ha una capacità atletica per fare questo tipo di gol e sfruttare questo tipo di situazioni. Come ho detto prima, sta sempre a lui, a ogni calciatore la voglia di migliorare, lui ha dei margini di miglioramento. E' importante che ognuno di noi abbia quella voglia, quella fame di alzarsi il livello e cercare di crescere sempre di più. Grazie mister. Grazie a voi.